buongiorno a tutti allora abbiamo fatto il primo video delle notizie del 4 giugno proseguiamo con il secondo video delle notizie del 4 giugno lo faccio senza la mia pennina che non so dove l'ho messa ma fa niente allora proseguiamo dicevo che perché abbiamo questo bayern monaco che è interessato a digne l'est giocatore della roma che ora è al barcellona leggevo su wikipedia che non è niente male a sentire a leggere pure a roma non è che sia andato tantissimo bene poi dopo proseguono le voci di un riccardo rodriguez che sembra che sia destinato a tornarsene in bundesliga vedremo se al bayern monaco al borussia o in quale squadra tedesca però pare che lo vogliano rispedire poi abbiamo questo udinese che nonostante widmer non sia stato convocato dalla sua nazionale sia pronta a cedere sia lui che ianto al miglior offerente quindi ahimè dovranno fare a meno di questi due giocatori già si sono salvati per il rotto della cuffia quindi mi auguro che poi dopo chi è addetto agli acquisti a udine faccia sappia utilizzare molto bene i soldi che prenderanno e saranno parecchi per la vendita di questi due giocatori perché sono all'udinese l'anno prossimo la vedo non male di più poi dopo abbiamo questo sassuolo che ahimè stanno facendo il supermercato al sassuolo berardi politano acerbi stanno portandogli via tutti però sta cominciando ad andare ai ripari perché sta pensando a farias del cagliari per l'eventuale sostituzione di politano e in effetti devono cominciare anche a pensare a tutti quanti perché se dovesse partire berarmi se babacar non lo tengono perché non vuole la spara o la fiorentina dello gira la spara quindi il sassuolo sta rischiando per di più con il parma in serie a attenzione a questo scambio di ruoli in cui il sassuolo torna a giocarsi la salvezza rischiare la b e il parma torna a essere il parma che conosciamo poi abbiamo questo genoa che è molto interessato alisandro lopez giocatore che in prestito all'inter dal benfica 9 milioni se non sbaglio il riscatto quindi può darsi che magari o l'inter non lo riscatta e lo riscatta al genova in modo che vada genova oppure potrebbe riscattarlo l'inter e rivenderlo al genova un milione in più a 10 per fare una piccola plusvalenza che potrebbe essere un'idea staremo a vedere poi cosa succederà oppure l'inter lo lascia andare al benfica il benfica poi glielo gira al genova vedremo poi abbiamo morata morata che al centro di varie attenzioni andrà la juve non andrà la juve tornerà la juve non tornerà la juve l'hanno chiesto al diretto interessato che ha risposto in questo momento non me ne frega assolutamente nulla io penso ad andarmene in vacanza e penso alle mie vacanze dopo penserò a dove andare tanto lui il contratto se non erro con il manchester ce l'ha anche se non gioca mai e quindi staremo a vedere dopo le ferie o dopo i mondiali cosa succederà tanto il calcio mercato inizia dal primo al 21 di agosto più o meno più o meno e parlano di agosto quindi adesso sono tutte schermagliette che si fanno ma i contratti vanno poi depositati in agosto penso e poi non lo so facciano un po quello che vogliono tanto il mercato c'è sempre le notizie di mercato ci sono anche a mercato bloccate durante il campionato quindi già a settembre ti dicono a giugno quello lì andrà là ma se appena ha cominciato il campionato vabbè proseguiamo l'Atalanta pensa a Soriano centrocampista del Lilla Real così per rinforzarsi potrebbe tentare questa sortita per prendersi Soriano poi una notizia che mi è scappato molto da ridere perché anche il Besita si è interessato a Juan Jesus allora i casi sono due o questo fa il pippone solo quando lo vedo io tipo con il Liverpool poi è diventato forte perché il Torino sta pensando a Juan Jesus il Besita sta pensando a Juan Jesus poi ne arriva un'altra che sta pensando a Juan Jesus l'unica che gode è la Roma che così può fare una bella asta vediamo chi offre di più magari anziché venderla 10-11 lo vende a 25 e fa un affare poi abbiamo la fila per Gabbiadini Gabbiadini del Southampton squadra che si è salvata perché ha finito il campionato a 36 punti davanti a Swansea Stock City a 33 e West Bromwich Albion a 31 però potrebbe essere ceduto dal Southampton e c'è Bologna, Torino e Lazio che sono interessati appunto a Gabbiadini probabilmente potrebbe essere utile per sostituire soprattutto alla Lazio Milinkovic Savic anche se con tutto il rispetto il paragone è un po' eccessivo però il suo lo fa Gabbiadini non è che è scarso poi abbiamo uno Yahya Turet che ha intervistato che gli ha chiesto se sarebbe andato al Marsiglia se andava al Marsiglia eccetera e ha detto sarebbe una sfida interessante andare a giocare nel Marsiglia ricordiamo l'Impig Marsiglia finalista di Europa League ahimè asfaltato dall'Atletico Madrid poi abbiamo una Fiorentina che è pronta a fare un'offerta per Schiri del Montpellier leggevo che è un centrocampista tunisino di 23 anni abbastanza tra virgolette nella mia ignoranza abbastanza sconosciuto però attenzione che la Fiorentina quando va a prendere questi giocatori lì poi fanno il salto di qualità poi abbiamo un Napoli che qualora dovesse partire Mertens non glielo auguro sta pensando al Papu Gomez come possibile sostituto ed è una cosa abbastanza interessante non sarebbe male anche se sono giocatori un po' diversi con anche forse Mertens è più goleador rispetto al Papu però dipende come lo fai giocare poi dopo secondo la stampa ma spagnola sarebbe stato trovato l'accordo tra il Napoli e il portiere Leno che è il portiere del Bayer Leverkusen che è un classe 1992 ottimo portiere quindi pare che sia stato trovato l'accordo non capisco cosa c'entri la stampa spagnola con due squadre una italiana e una tedesca ma sapete che loro devono mettere il becco dappertutto per quanto riguarda Milinkovic Savic la Juventus per ora sta lì come un avvoltoio ad aspettare che alla Lazio arrivino le prime offerte per vedere se arrivano anche delle offerte per Milinkovic Savic e poi eventualmente piazzare l'offerta giusta per portarlo a casa magari senza spendere troppo senza spendere quei 150 milioni che Lotito spera di portare a casa e non solo Lotito poi dopo il Torino sta facendo un piccolo pensierino di riprendersi Bruno Perez dalla Roma visto che Bruno Perez non è che lo stanno utilizzando molto non è che si sia ambientato esageratamente ha sempre davanti Florenza e qualcun altro quindi gioca poco e la Roma non credo che sarebbe contraria a ridarlo al Torino naturalmente servivano almeno 10-12 milioni come minimo poi dopo ci abbiamo una richiesta esplicita di Ancilotti a De Laurentiis di prendere di Pastore come ben sappiamo Pastore dovrebbe potrebbe, dovrebbe, eccetera, eccetera mettiamo sempre il condizionale lasciare il PSG Paris Saint Germain il PSG è dove? il PSG e quindi con una quarantina di milioni anche meno perché comunque Pastore già prende un botto di soldi quindi se già gliene offrono 30 sono tantini perché comunque poi dopo devi pagargli lo stipendio potrebbe portarselo a casa e Pastore non sarebbe male soprattutto se dovesse partire Amsic o come dice di Ancil visto che comunque ricordiamoci che il Napoli ha campionato e Champions poi abbiamo la gente di Fekir che ha detto attenzione che non è detto che vada a Liverpool Fekir è un attaccante barra centrocampista centrocampista barra attaccante dell'Olympic Milione classe 93 quindi 25 anni più o meno mese più mese meno poi dopo c'è vabbè questa è stata la notizia che ho detto vabbè qua non c'è più religione perché è vero che un Titi rinnova per il Barcellona però mettere una clausa di 500 milioni per un difensore a questo punto che clausola metti ha un Neymar 2 miliardi a CR7 cosa fai 2 miliardi e 2 a Messi 2 miliardi e 3 non lo so cioè vabbè e infine l'ultima notizia è l'agente di Jones che conferma il no al Genova vuole solo il Napoli e questo è un attaccante classe 93 dell'Ajax quindi saranno contenti i tivosi napoletani una volta tanto c'è un giocatore che è ben felice di andare al Napoli visto che ogni tanto sembra chiuso per un calciatore il contratto fatto tutto fatto eccetera il giocatore devo andare al Napoli no non mi piaccia non mi va e poi vai a giocare in Ucraina o in Russia vabbè contento lui contenti tutti bene abbiamo chiuso completamente la tornata di notizie del 4 giugno 2018 e ci vediamo al prossimo video ciao